legali all'Alitalia, non ancora una volta i soldi degli italiani e in questo caso dei sardi destinati alle compagnie che truffano ai danni della Sardegna e dei sardi. Non so e concludo se il Santo Padre vi accorderà un atto di misericordia per questo vergognoso decreto. Non lo so. Può darsi che scelga ancora la strada del silenzio e quello sarà un atto per voi miracolistico. Ma non vi assolverà un atto di misericordia da una responsabilità politica, istituzionale, costituzionale netta. Una responsabilità politica grave di non aver saputo, di non aver perseguito con questo decreto un obiettivo alto, che era quello di servire interessi reali e concreti. Un Governo che ancora una volta ha perseguito politiche di basso cabotaggio che non merita da parte di nessuno nessuna clemenza. Grazie Presidente. Giubileo ed Expo sono le parole, anzi i concetti chiave del Decreto 185 2015, definito a più riprese non a caso Decreto Giubileo. Due grandi eventi che a partire dallo scorso anno caratterizzano e qualificano l'immagine del nostro Paese, che sono rappresentazione simbolica ma anche sostanziale di un'Italia che può e sa essere efficiente, che partendo dai giusti presupposti e da motivazioni ambiziose mostra il meglio di sé, dell'Italia che si fa esempio attraverso i valori, i prodotti, il saper fare, la qualità e l'innovazione dell'esposizione universale di Milano, di un nuovo modello di sviluppo in cui la globalizzazione attiene alle opportunità dei singoli e delle comunità di raggiungere alti livelli di qualità di vita, produzione e convivenza, piuttosto che alla moltiplicazione e la diffusione delle disuguaglianze. Dell'Italia che attraverso il Giubileo della Misericordia, voluto da Papa Francesco, apre le sue porte, è proprio il caso di dirlo, alla multiculturalità, come approccio responsabile, regolato e trasversale, al fine di contribuire a riscrivere un equilibrio internazionale basato sul dialogo, sul rispetto delle differenze, sulla messa in rette delle differenze. Ma il Decreto 185 2015, particolarmente incentrato sull'organizzazione di Giubileo e del dopo Expo, non poteva essere diversamente e anche tanti altri rilevanti interventi, che trovano la loro ragione d'essere in ragionamenti strutturali con precise prospettive, step di interventi ben più ampi, già viatti, rispetto ai quali l'obiettivo è l'implementazione delle risorse disponibili, la correzione in vista del raggiungimento di migliori performance, l'ottimizzazione dei risultati attesi, la semplificazione amministrativa e la velocizzazione della spesa. Interventi che hanno quali finalità prevalenti? Quella di mettere a valore le potenzialità dei territori, prima fra tutte quelle culturali e strettamente connesse alle competenze e alle esperienze maturate negli anni, e di ridurre l'impatto negativo su sviluppo e livelli di competitività dei deficit infrastrutturali dei servizi, che di fatto dividano e ampliano le distanze fra i territori regionali del nostro Paese. Interventi che danno risposte a questioni vecchie, che negli anni si sono sedimentate, perché mai hanno avuto la giusta attenzione, come invece è successo in questi ultimi due anni. Mi riferisco in particolare agli interventi riguardanti le infrastrutture e trasporti, sia urbani che interregionali, la infrastrutturazione materiale e immateriale delle periferie urbane e delle zone maggiormente svantaggiate, recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la promozione del Made in Italy, l'importante e consistente implementazione delle risorse destinate al volontariato del terzo settore e alla produzione cinematografica. Ma la discussione intorno agli importanti interventi contenuti nel provvedimento, rispetto ai quali le critiche sul merito, oltre a essere poche, sono anche scarsamente argomentate, si è incentrata principalmente sul metodo e la modalità di reperimento e destinazione delle risorse, oltre 900 milioni complessivamente. Una modalità innovativa rispetto al passato. Nel corso di questa legislatura, in occasione dell'approvazione del rendiconto generale per gli anni 2012 e 2013 in particolare, abbiamo potuto constatare come parte, talvolta anche consistente, delle risorse stanziate nei vari capitoli del bilancio dello Stato vanno a ingrossare i cosiddetti residui di stanziamento, in quanto risorse impegnate ma non spese nell'esercizio finanziario nel quale sono state previste, tradotto in parole semplici risorse disponibili ma non spese, per diversi motivi, uno fra i più ricorrenti l'incongruenza fra la previsione fatta all'inizio dell'anno finanziario e l'uscita, il costo reale, alla base del definitivo impegno di spesa, tradotto ancora in termini di ricadute sui territori e sui bisogni dei cittadini, risorse non spese e quindi in qualche modo distolte rispetto al fabbisogno finanziario complessivo, sotteso ai bisogni delle comunità dei territori e dei cittadini, in particolare in termini di servizi e infrastrutture. Ecco, attraverso il decreto di cui discutiamo, il Governo ha proposto una modalità di destinazione delle risorse al fine di evitare che oltre 900 preziosi milioni di euro andassero a giacere fra i residui non spesi. Ha proposto in altri termini i correttivi necessari da un punto di vista tecnico per migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa, così come attraverso diversi pronunciamenti e non ultima la relazione annuale sul bilancio dello Stato, ci ha chiesto spesso la Corte dei Conti nel rilevare, rispetto al bilancio dello Stato, l'esistenza di potenziali margini di razionalizzazione delle risorse impegnate. Da un punto di vista politico, la riassegnazione di queste risorse si è tradotta in risposte rispetto a problemi, fragilità e aspettative provenienti dai territori. E sebbene gli interventi siano molteplici e collocati in diverse aree del Paese si presentano come organici al disegno politico di mettere a sistema e a valore le potenzialità del nostro Paese, disegno politico che il Governo, la maggioranza che lo sostiene e il nostro gruppo parlamentare stanno perseguendo atto dopo atto, provvedimento legislativo dopo provvedimento legislativo. Lo dicevo prima, molteplici interventi collocati in diverse regioni del Paese, ma tutti caratterizzati da una forte attenzione a ridurre le disparità e gli squilibri territoriali, determinati sia dalla geografia e dall'orografia di certi contesti, penso appunto alla Sardegna e alla condizione di insularità, sia talvolta alla superficiale e maldestra gestione del territorio, che si è ripercosta e si ripercuote negativamente sull'attrattività dello stesso, oltre che sulla qualità di vita dei cittadini che vi risiedono. Ricordo a riguardo due interventi di grande rilevanza che sono stati già citati. Uno è quello della continuità, la previsione di continuità dei servizi ferroviari a media e lunga percorrenza e la conferma della gestione degli stessi in capo a Trenitalia anche nel 2016, alle medesime condizioni previste dal contratto di servizi vigente per gli anni precedenti. E l'altra sono i 30 milioni attribuiti alla Regione Sardegna per il 2015, con l'impegno che noi auspichiamo, che lo stanziamento 2015 diventi uno stanziamento triennale, quindi 2015-2017, al fine di garantire la continuità territoriale e migliorare il sistema di collegamenti aerei da e per l'isola, affinché il diritto alla mobilità possa essere esteso anche ai passeggeri non residenti. Ancora, molteplici interventi destinati a semplificare e quindi ad accelerare i processi amministrativi che sottintendono alla realizzazione di opere pubbliche e di interventi a carattere infrastrutturale e sociale, che hanno un rilevante impatto sulla capacità dei Comuni e delle Regioni di dare risposte celeri e completi ai cittadini. Penso in particolare ai 25 milioni aggiuntivi per l'edilizia residenziale pubblica, facendo seguito e intervenendo a seguito della comunicazione delle Regioni che avevano evidenziato che le risorse messe a disposizione non erano sufficienti. Intervento questo che contribuirà a trasferire, a recuperare 1.500 alloggi aggiuntivi rispetto ai 4.500 previsti e quindi a dare risposte di carattere sociale a diversi cittadini residenti, in particolare in aree disagiate e nelle periferie urbane. Ancora l'articolo 9, che contiene un'altra disposizione molto importante, che prevede il riallineamento del termine di scadenza dell'appaltabilità e della cantierabilità di opere considerate di rilevante interesse pubblico, penso in particolare agli aeroporti, allineamento all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione. Provvedimento questo teso alla velocizzazione della spesa e anche a consentire alle regioni e agli enti locali di non perdere le risorse a causa della incongruità dei tempi burocratici di realizzazione delle stesse. Ancora voglio citare lo spazio finanziario, l'ampliamento dello spazio finanziario di cui all'articolo 11, al fine del patto di stabilità interno, per complessivi 50 milioni, destinato ai comuni che nel 2015 hanno effettuato pagamenti attraverso risorse dei propri bilanci per interventi relativi alle linee metropolitane. Cito anche il Fondo Sport e Periferie, con dotazione complessiva a 100 milioni, che ugualmente contribuirà al risanamento, alla costruzione di condizioni di equilibrio economico-sociale nelle aree che portano maggior degrado e che sono maggiormente periferiche. La portata degli interventi, quelli che brevemente ho riportato e che hanno riportato anche i colleghi, ma che in maniera complessiva ha riportato il relatore che ha riferito il merito, sono di grande rilevanza e coerenza rispetto all'obiettivo di rimettere l'Italia a correre, senza lasciare indietro i sistemi territoriali che a lungo sono rimasti fermi a causa di politiche spesso squilibrate e spesso tese a trasferire risorse nelle zone più ricche. Ancora, le modalità di reperimento delle risorse, attraverso la riassegnazione di quelle stanziate, ma non definitivamente impegnate e spese a interventi urgenti e di grande rilevanza per lo sviluppo del Paese intero, ugualmente rappresenta una modalità innovativa, efficiente ed efficace di allocazione e spendita delle risorse pubbliche. Non finanziamenti a pioggia o marchette elettorali, non ratopi casuali, ma interventi funzionali alle priorità rispetto alla strategia per uno sviluppo equilibrato dell'intero Paese all'insegna della coesione sociale. La strategia di sviluppo equilibrata all'insegna della coesione sociale, che è la missione del Governo Renzi e del gruppo parlamentare del Partito Democratico. La ringrazio. Onorevole Micillo. Sì, grazie, Presidente. Il provvedimento stanzia circa 900 milioni di euro per interventi urgenti per la ripresa, ritenuti prioritari per percorrere il risanamento ambientale di aree compromesse e per avviare il percorso di valorizzazione di aree strategiche nel Paese. Un programmone, insomma. Belle parole. Tra il tutto e il più troviamo pure le famose coballe della Campania, la storia infinita, quelle di Taverna del Re e quelle di altri tarreteori. Solo il fatto che la piaga delle coballe in Campania continui ad essere trattata all'interno di un decreto legge che, per sua natura, a carattere di urgenza, conferma che il Governo non è in grado di ridurre.